La dichiarazione dello Stato d'insolvenza per vecchia banca Etruria, messa nero su bianco in una sentenza di 15 pagine del Tribunale fallimentare di Arezzo, ha aperto le porte per l'avvio di un quinto filone d'inchiesta, questa volta per il reato di bancarotta fraudolenta. Le indagini puntano a verificare eventuali responsabilità dei membri dei consigli di amministrazione del periodo compreso tra il 2013 e il 2015, ovvero quelli presieduti da Giuseppe Fornasari e Lorenzo Rosi e in cui Pierluigi Boschi era vicepresidente. A lavorare sulle inchieste legate a banca Etruria sono attualmente quattro degli otto magistrati del Tribunale aretino, come ha spiegato il procuratore Roberto Rossi, cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha chiesto ulteriori approfondimenti sui dieci procedimenti archiviati a carico di Pierluigi Boschi. La base di lavoro dell'inchiesta è l'ultima relazione ispettiva della Banca d'Italia, in cui sono indicate una serie di spese deliberate dal vecchio Consiglio d'Amministrazione che hanno contribuito al dissesto dell'Istituto. Il pool indagherà su 17 milioni di euro di consulenze per verificare che fossero veramente necessarie, così come andranno ricostruiti i passaggi dietro alla maxiliquidazione da più di un milione di euro per l'ex direttore generale Luca Bronchi, erogati quando la banca era già in crisi. Ma il filone più consistente sarà quello dei fidi elargiti su interessamento di consigliere di amministrazione e diventati poi crediti deteriorati. La Banca d'Italia ha segnalato 198 posizioni per un totale di 185 milioni di euro e ha scoperto decine di fideiussioni inconsistenti.